Liguori 1-1 contro il Foggia, soprattutto si è avuta la risposta dopo lo scivolone di Latina. Sì, abbiamo cacciato tutto quello che avevamo, perché dopo una brutta figura come quella di Latina, i tifosi e soprattutto la gente si aspettava molto da noi. E credo che oggi hanno avuto la giusta risposta, perché il primo tempo forse potevamo far meglio, ma il secondo tempo abbiamo visto un grande campo basso. Un grande campo basso, è vero. La squadra rabbiosa che voleva anche vincere la partita, avete avuto più occasioni voi del Foggia. Avete il rammarico per non averla vinta? Il rammarico c'è sempre, perché dopo che fa un secondo tempo del genere e la riesce a pareggiare contro una squadra forte come il Foggia, credo che vincerla non fa male mai a nessuno. Però purtroppo l'abbiamo pareggiata e continuiamo sempre per la nostra strada, sapendo le nostre potenzialità. Hai corso davvero tantissimo, hai segnato un gol, bucando il portiere sul primo palo. Sei soddisfatto un po' più degli altri, forse, stasera? Soddisfatto sì, perché alla fine, nel senso io do sempre tutto in campo e cerco sempre di fare del mio meglio. Però ho soddisfatto fino a un certo punto, perché potevamo appunto vincerla. E quindi non si è mai soddisfatti fino alla fine. Dovete migliorare le partite interne, una forse, anzi leviamoci il forse, è troppo poco come rendimento interno, una vittoria, quindi questa occasione è servita sabato proprio contro il Francavilla. Sì, noi come sempre facciamo prepariamo la partita al meglio e poi ce la giocheremo come facciamo con tutte le altre.